... Rivendicato dalle Brigate Rosse a Verona il rapimento del generale americano Dozier, vicecomandante delle forze NATO nel sud Europa. Che si sia osato sequestrare un alto ufficiale straniero colpisce comprensibilmente, offende la suscettibilità degli americani. Il presidente americano ha detto che i rapitori non sono degli eroi, sono soltanto dei vini, dei codardi. Pensavo che non sarei sopravvissuto. Non sapevo cosa avrebbero potuto farmi. Avevano sparato ad Aldomoro e lo avevano messo nel bagagliaio di una macchina. Perciò immaginavo che avrei potuto fare la stessa fine.